Il quarto potere è tutto per il presidente rieletto, a partire dagli Stati Uniti. La notte di Obama, titola il New York Times, che condensa così il racconto di una sofferta vittoria. Il trionfo di Obama è lo strillo del Wall Street Journal, mentre il Washington Post più cauto scrive Obama vince. Elezioni americane in primo piano anche sulla stampa cinese. New York è ancora travolta dall'euforia della notte, in migliaia si sono riversati a Times Square. Voglio che concluda il suo lavoro, un compito che è stato difficile sin dall'inizio. Io sono convinta che possa realizzare molte delle promesse, come ha già cominciato a fare in questi primi quattro anni. Voglio che porti avanti la riforma del sistema sanitario, tengo davvero molto a questo. È favorevole al controllo delle nascite e alla contraccezione gratuita. Sono cose davvero grandi. A New York è ancora tempo di festa per una vittoria dal significato politico profondo e che per molti ha lo stesso sapore di quella del 2008.